Nooo, ho mangiato tutto! Ragazzi, io sono Gamo29 Io sono Cristian E noi siamo Inter Brothers Oggi praticamente faremo una sfida Per vedere quanto intelligente è Tyron Abbiamo già cominciato male Iniziamo Giù 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 Mangia Siedi Zampa L'altra zampa L'altra zampa Bravo Fermo 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 Tion Trova il cibo Stupido Ciao 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 Or Ciao 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 Romero Grazie a tutti.